Ci pensano gli studenti napoletani a valorizzare i beni confiscati, 14 gli immobili analizzati dai ragazzi dell'Istituto Tecnico per Geometri della Porta Porzio di Napoli che hanno partecipato al progetto Legalità e Cultura dell'Etica, beni confiscati alla criminalità organizzata, i cui risultati sono stati illustrati durante un incontro nella sala giunta di Palazzo San Giacomo con l'assessore alla Polizia Municipale del Comune di Napoli, Antonio De Jesu. Abbiamo firmato una convenzione, i ragazzi sono entusiasti, sono stati entusiasti di partecipare a un progetto che li vede protagonisti insieme all'amministrazione comunale per disciplinare e per regolamentare l'utilizzo dei beni confiscati. Era importante fare i fascicoli, fare un'analisi del singolo bene perché questo consente all'amministrazione comunale di valutare attentamente la destinazione sociale del bene. 14 tra appartamenti, ville e locali commerciali sottratti alla camorra riconvertiti in progetti ideati dagli studenti che per i loro lavori hanno anche effettuato sopralluoghi sui posti. Consegnati all'amministrazione comunale i progetti saranno messi a bando da San Giacomo per le associazioni che ne faranno richiesta. In sala giunta con gli 80 studenti intervenuti la dirigente Alessandra Guida. Sono dei progetti per la rivalutazione di questi beni che sono stati confiscati alla camorra e quindi diversi immobili sono stati da loro trasformati, non ancora, insomma in fase progettuale e oggi loro consegneranno questi loro lavori finali, questi progetti terminati al sindaco.